Ciao a tutti, vediamo in questo video la migliore cosa da fare se lui o lei ti abbandona. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, dobbiamo dire questo, l'abbandono, che ci piace o che non ci piace, è una delle sofferenze più grandi che noi possiamo vivere. E' una delle sofferenze più grandi perché praticamente costituisce un imprinting praticamente universale, perché nella nostra vita abbiamo sperimentato sempre con sofferenza degli abbandoni, nella nostra vita infantile e successivamente anche. Ma il primo abbandono, diciamo così, lo sperimentiamo con la nascita, dove abbandoniamo un luogo che abbiamo, dove siamo stati per nove mesi, diciamo così, e che probabilmente era anche un luogo sicuro o vattato da un certo punto di vista, magari da certi altri no, però diciamo, e siamo stati proiettati in un mondo dove, come dire, non era tutto risolto dal cordone umbilicale, diciamo, le nostre necessità dipendevano inizialmente da altri, bambino piccolo dipende molto, anzi al 100% da altri, e per il sostentamento, per tutto, per l'affetto, per tutto, e quindi spesso che succede? Che delle cose tu temi di poterle perdere, temi di venire abbandonato, perché un bambino piccolo può magari viversi proprio l'abbandono, e anche successivamente ci sono mille situazioni in cui l'abbandono ha costituito un imprinting, e questo imprinting che cos'è? È quel nucleo, diciamo così, emozionale che poi tende a ripresentarsi, perché l'abbandono dà molte emozioni, e quindi noi purtroppo solitamente reggiamo nel modo sbagliato quando veniamo abbandonati, cioè ci attacchiamo alla persona che ci abbandona, diventiamo come delle piattelle, come dire, sullo scoglio, vogliamo a tutti i costi, ci aggrappiamo a questo fatto, perché non ci rendiamo conto, o perlomeno ce ne rendiamo conto da un punto di vista superficiale, ma non profondo, che tutte le cose sono impermanenti, quindi il cambiamento continuo e costante rappresenta sempre degli abbandoni, ogni volta che finisce un ciclo della nostra vita, quello è di fatto un abbandono, finisce un fidanzamento, finisce una relazione, finisce un lavoro, insomma l'abbandono ci tormenta in tutti i modi, quindi quali sono le migliori cose da fare per superare l'abbandono? Intanto tieni presente che farò, diciamo, darò alcune indicazioni importanti su come superare l'abbandono. Per superare l'abbandono, una cosa importante che dobbiamo, per superare la paura dell'abbandono, una cosa importante che dobbiamo fare è quella di non inseguire chi ci abbandona. Viverci il dolore, è importante viversi il dolore, perché se tu non ti vivi il dolore, non te lo vivi dentro questo dolore dell'abbandono, resterà semplicemente un qualcosa che ti farà soffrire nel tempo, quindi non devi metterlo in cantina il dolore dell'abbandono, devi vivertelo. Vivertelo e poi però fare delle azioni, agire, andare nel senso di ricostruire qualcosa, di iniziare qualcosa di nuovo, perché dopo un po' noi ci abituiamo, abbiamo questa caratteristica, nel momento in cui inizi qualcosa di nuovo, ti abitui. Quando noi nasciamo, viviamo questo dolore dell'abbandono, della pancia materna, dell'utero materno, però poi ci adattiamo subito. È ovvio che a quell'epoca lì viene naturalmente perché non stiamo a rimuginare, non stiamo a pensarci sopra. Invece dopo, da grandi, diciamo da adulti, non riusciamo a superare bene questi traumi da abbandono, perché da distacco non voluto fondamentalmente, perché, come dire, iniziamo a pensare troppo, a rimuginare e non agire. E quindi restiamo agganciati all'idea, restiamo appesi all'idea del non riuscire ad ottenere quello che vogliamo, perché sono stato abbandonato, sono da solo, e tutti questi discorsi mi impediscono di agire, perché eccessiva riflessione indivisce l'azione. E quindi noi dobbiamo imparare a sbloccarci da questa eccessiva riflessione e ad agire. fare delle cose, perché il fare delle cose ci farà superare la paura dell'abbandono, ma di fondo dobbiamo diventare noi gli artefici della nostra vita emotiva, dobbiamo diventare noi gli artefici della vita emotiva che ci caratterizza e dobbiamo noi imparare a darci emozioni per conquistare e per sedurre. Per sedurre, paradossalmente, possiamo noi erogare l'abbandono affettivo, che è un qualcosa di molto, molto utile e importante. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!